Bresciana orientale, di nuovo negli studi di Temporadio, bentornato per filo diretto, bentornato. Ben ritrovati a tutti voi. Ben ritrovato a lei. Ovviamente noi gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione, ricordiamo che il numero per mandare sms e messaggi whatsapp è il 348-318-8339 e che siamo in diretta streaming sulla pagina facebook del Gazzettino Nuovo di Temporadio e su youtube. Allora, dunque, CBBO, azienda che opera nel settore dell'igiene urbana da oltre 25 anni, una realtà molto importante e lei vuole parlarci di una sensibilizzazione a cui tenete giustamente, non giustamente, delle cittadinanze. Sì, oggi mi piaceva l'idea in questa mattinata, diciamo così, di inizio autunno, di fine estate in cui la gente, nonostante, diciamo così, l'isolamento a cui siamo stati costrati in questi mesi, un po' si è mossa di più. Volevo parlare un po' dell'abbandono dei rifiuti, che è una piaga un po' che affligge i nostri territori. Tra l'altro siamo un po' in linea con l'intervento che mi ha preceduto, visto che ho sentito la rappresentante del comune di Montichiari, che probabilmente sarà sicuramente stata sollecitata a parlare di rifiuti anche lei stessa. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è un po' un malcostume che affligge il nostro territorio e riguarda un po' in maniera indiscriminata tutte le zone. Non c'è ormai una zona che sia esclusa da questo fenomeno. Le grandi arterie, le vedete tutti i giorni passando per andare al lavoro, sono spesso e volentieri utilizzate come discariche, ma anche ormai i centri storici, che vivono un po' anche delle forme di abbandono loro stessi, come strutture, sono soggette a questo tipo di realtà. Cosa viene abbandonato? Molte volte mi si chiede cosa incontriamo nei nostri servizi di raccolta, poi parleremo anche di quello, di cosa vuol dire occuparci dell'abbandono dei rifiuti sui nostri territori. Perché la gente deve sapere che se qualcuno li lascia, qualcun altro li deve portare via e questo fa parte delle attività che sono affidate a un'azienda come la nostra. Si abbandona di tutto, partendo dai rifiuti, dai residui della nostra quotidianità, il classico sacchetto che probabilmente il cittadino trova più comodo abbandonare nei fossi piuttosto che esporlo nei giorni corretti della raccolta, alle apparecchiature elettriche, al frigorifero, alla lavatrice, i pneumatici spesso e volentieri si incontrano abbandonati sulle strade. Ma questi sono dei residui, poi magari ne parlerò più nel dettaglio, che hanno forse anche una loro storia. Quello che oggi mi sconcerta è il nuovo fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che sono mascherine e i guanti. È assurdo, veramente. Sì, 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 è la nuova forma di abbandono ed è assurdo pensare che qualcosa che ha fatto bene alla mia salute in qualche modo debba impattare sulla salute degli altri perché il fenomeno degli abbandoni porta anche a problemi legati alla salute. Il fenomeno dell'abbandono della mascherina, che è un oggetto comunque piccolo e ormai è diventato comune nelle nostre tasche e nelle nostre borse, fa parte un po' di quel processo che si chiama littering, c'è questo termine, è stato coniato addirittura un termine in inglese, che un po' battezza, questo è il mal costume di gettare a terra i piccoli residui del nostro vivere, la cartaccia della merendina che ho mangiato, il chewing gun, il mozzicone della sigaretta, la carta del gelato. Quindi c'è questa cosa che io mi debba disfare rapidamente appunto di un oggetto nel più breve tempo possibile. Poi tra l'altro è una cosa che fa particolarmente rabbia, c'è sempre stato, già dagli anni 70, se tu volevi fare una discarica dovevi mettere di vieto discarico e lì ci faceva una discarica dietro. Però sarebbe il paese più bello del mondo l'Italia, se non fosse per colpa di qualche... Perché è una minoranza, credo, quello che butta. Sì, sì. È una minoranza che fa rumore, perché, ripeto io, non c'è amministrazione che io incontri quotidianamente che non mi dica dobbiamo fare qualcosa per il fenomeno dell'abbandono, perché è ovvio che dieci sacchetti abbandonati in un prato sono una bomba, fanno molto più effetto che non 11.000 famiglie, penso, non so, cito il caso di Montichiari, che invece fanno le cose in maniera corretta. Per colpa di pochi si vanifica, diciamo così, un corretto comportamento di moltissimi. Se penso al territorio di Montichiari, alla corretta gestione, Montichiari è partito con la raccolta porta a porta dei rifiuti ormai da qualche anno, è ai vertici in provincia di Brescia come percentuale di raccolta differenziata. Quindi, diciamo così, non è solo, come si suol dire comunemente, la città delle discariche, è anche molto altro. Ha un'isola ecologica che è gestita in maniera ottimale, con degli orari ampissimi. Propone tutta una gamma di servizi ai cittadini. Adesso stiamo parlando anche di proporre la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti per quelle persone che magari non hanno la macchina o sono anziani. Quindi, voglio dire, non c'è una scusa, non c'è una scusa plausibile a questo mal costume. Veramente, io credo che sia un percorso culturale. Un percorso culturale. E per quanto riguarda invece i rifiuti di altro genere tipo gli abbandoni di utenze non domestiche? Ecco, anche lì. Io dico sempre non me ne vogliono le imprese, adesso cominceremo a vedere a fioccare tutti i messaggi sul computer. Non me ne vogliono le imprese, ma io dico sempre che per un'impresa smaltire i rifiuti è un po' come pagare le tasse. È una cosa che si fa perché mi tocca, perché bisogna. E quindi, anche qui, a fronte di imprese che negli anni hanno fatto dei processi interni di riorganizzazione bellissimi, che veramente stanno andando verso un percorso di economia circolare, quindi riducendo quasi a zero anche la necessità di smaltire i residui dei loro processi produttivi perché hanno migliorato i prodotti che utilizzano perché li gestiscono all'interno. C'è tutta un'altra gamma di realtà molte volte che sfuggono alla legge piccoli imprenditori che lavorano al limite della legalità, che lavorano in nero, che non sono registrati, magari che vengono anche da altri paesi, eccetera, eccetera, che trovano più semplice abbandonare gli inerti, i calcinacci o gli scarti della loro produzione nei prati e nei campi piuttosto che smaltirli correttamente. Smaltirli correttamente ha un suo costo, è inutile negarlo, voglio dire, perché sono prodotti che comunque per essere trattati in maniera corretta hanno necessità di costi, di oneri e quindi molte volte ci sono imprenditori che trovano più facile agire, penso all'Eternit per dire. A fibrocemento con amianto. Esattamente. Esatto. Quindi, quali sono comunque i danni principali provocati all'ambiente e alla salute? Vabbè, con l'amianto per esempio una delle forme più gravi è il tumore al polmone tanto per intenderci. Sì, sì, sì. La sbestosi è questa. Esattamente. Ecco, qui si è fatto molto ma io ricordo parlo con lei che mi sta di fronte che è praticamente un mio coetaneo che io da ragazzino andavo a tirare fuori le lastre che la gente abbandonava e ci giocavamo lanciando lì le sassate facevamo i centri eccetera 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 ricordo che andavo a prendere i televisori e li sfondavamo a martellate perché li trovavamo comunemente quindi diciamo così c'è stato un processo però comunque c'è un danno ambientale tutti questi residui la rilasciano nell'ambiente delle sostanze pensiamo alle microplastiche che ormai sono ovunque ormai credo che nessuno possa negare di conoscere l'effetto della plastica nei pesci si vedono ormai dappertutto filmati documentari frammenti di video con questi pesci che hanno lo stomaco pieno di particelle di plastica le do un dato perché la gente a volte ha bisogno di sapere che tocca anche se stessa perché vabbè finché riguarda i pesci oppure chi mangia i pesci c'è qualcuno che si è divertito a fare degli studi e si è calcolato che nel corso del 2019 diciamo così grazie alle microplastiche che ormai sono nella carne degli animali che noi mangiamo ok ognuno di noi si è mangiato l'equivalente di una carta di credito quindi nel nostro stomaco ci siamo mangiati una carta di credito in plastica all'anno all'anno però non siamo diventati più ricchi non siamo diventati più ricchi perché già siamo mangiati avremmo dovuto usarla in maniera più intelligente che non mangiarcela e quindi fa abbastanza e proprio ci siamo mandati giù l'equivalente in plastica esatto tramite pesci tramite animali esattamente la plastica è la plastica ma l'eternit l'ha citato lei le fibre vanno in giro eccetera eccetera l'olio che in maniera dissennata molti abbandonano ancora sversano nei fossi tornando all'eternit qualche mese fa noi abbiamo fatto una campagna di bonifica di un fontanile ok i fontanili delle nostre campagne sono per me che non vengo dalla campagna una delle realtà più belle che io abbia visto passeggiando dalle nostre parti molti comuni stanno facendo dei processi di recupero di queste peculiarità che ci sono nella nostra pianura in comune di Calvisano l'anno scorso qualche scellerato in un fontanile con l'acqua limpidissima ha riempito di lastre di eternit quindi è veramente criminale veramente poi adesso parliamo anche di danni economici tra l'altro perché andiamo a toccare anche i portafogli magari lo facciamo tra pochissimo con Francesco Arcaro direttore CBBO ci troviamo tra un paio di minuti arriviamo compagnia di Francesco Arcaro direttore CBBO consorzio bassa Bresciano orientale stiamo parlando appunto dell'abbandono dei rifiuti di questo odioso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che riguarda tutto il territorio parliamo anche di economia abbiamo parlato di salute abbiamo visto come la cosa crei danni tra l'altro non dimentichiamoci che purtroppo proprio la provincia di Brescia è spesso paragonata dai medici non da chi scrive strano ma vero sul rotocalco ma dai medici alla terra dei fuochi anche proprio per questo discorso oltre al danno ambientale c'è anche un danno economico derivante tra l'altro dalla rimozione perché poi quando questi maleducati hanno riempito per esempio un fosso che poi si ottura poi piove c'è bisogno che qualcuno rimuova è proprio così questo fenomeno non è solo pericoloso ma è anche costoso tutto ciò dopo ne parleremo mi viene a dire ormai siamo in una rete interconnessa quindi chiunque compia un'azione in qualche maniera riverbera anche su qualcun altro anche in questo caso quindi non si può più dire non tocca a me oppure ma si è stato lui perché in qualche modo intacca anche la mia di vita lo intacca a livello di pericolosità l'abbiamo detto prima perché se si inquina il mondo si inquina anche il mondo di mio figlio e non soltanto del criminale che l'ha abbandonato ma in qualche maniera tocca anche le mie tasche argomento molto sentito dai nostri cittadini per dare un dato lo diceva lei prima se qualcuno abbandona qualcuno deve raccogliere perché altrimenti saremo sommersi da rifiuti e quindi realtà come la nostra società su incarico dei comuni che sono un po' tenuti ad occuparsi del decoro come si dice in gergo del nostro territorio si muovono cercando di tener pulite le altre città stiamo parlando del sacchetto stiamo parlando del materasso stiamo parlando della lavatrice ma lo ricordavo prima stiamo parlando anche di sversamenti di rifiuti industriali nei fossi di lastre di ethernet eccetera eccetera per dare un dato a realtà del nostro bacino tutto questo costa 200 mila euro all'anno tanto per dare quindi noi vuol dire che dico noi noi tutti i cittadini buttiamo 200 mila euro all'anno che su un territorio come Montichiari consentirebbero di non lo so raddoppiare le ore di pulizia con la spazzatrice di fare un parco giochi nuovo ogni anno uno buttiamo una cifra di questo tipo 15 mila euro circa per ognuno dei nostri comuni che gestiamo per cercare di tamponare non di risolvere di tamponare questo problema quindi questa spesa insisto maggiormente perché la gente forse non lo capisce se noi spendiamo 200 mila euro vuol dire che 200 mila euro sono caricati nella tariffa dei rifiuti che ognuno di noi ogni nostra famiglia paga annualmente quindi una parte del costo che io pago nella mia tariffa dei rifiuti serve per pulire quello che qualcun altro ha sporcato questo dovrebbe fare riflettere ognuno di noi quindi è un problema che ci tocca da vicino su tantissimi fronti quindi questo poi fa diciamo così fa introdurre uno degli ultimi punti cosa posso fare io cosa posso fare io posso cercare di limitare se non mi interessa del danno collettivo almeno il mio danno quindi se faccio il mio piccolo per fermare questi comportamenti scellerati ne traggo vantaggio sulla mia tariffa dei rifiuti ne trarrà vantaggio mio figlio e mio nipote che avranno sicuramente un mondo più pulito perché lo diceva lei stesso la provincia di Brescia è seriamente danneggiata da questi comportamenti scellerati da questo punto di vista forse ahimè io ne parlo da cinquantenne i giovani sono più sono più bravi di noi sono molto più bravi di noi le scuole si muovono fanno dei percorsi di educazione io qualche giorno fa ero in macchina con dei ragazzi e abbiamo visto un signore davanti a noi che ha buttato delle cartacce dalla macchina cosa che io stesso non vedevo da tantissimo tempo beh loro sono rimasti colpiti cioè gli sembrava veramente una cosa strana che si potesse fare una cosa del genere per gente come noi era una volta era la normalità quindi cosa posso fare io quantomeno segnalare perché anche qua io spesso e volentieri incontro i cittadini dei nostri territori e alla fine io lo so benissimo quello che abbandona quello che lascia so che il mio vicino fa questa cosa so che per cui tenere alta l'attenzione non voltarsi dall'altra parte ecco quello è questo che è quello che io chiedo a tutti i nostri cittadini certo le leggo i messaggi direttore lei è bravo a comunicare per quello che sta dicendo mi fa star male veramente si fa star male tutti ma ripeto non voltatevi dall'altra parte se tutti insieme riusciamo almeno a essere occhi ok noi possiamo continuare a essere braccia allora ecco le associo due messaggi perché uno è il proseguo dell'altro a mio giudizio comunque molte salatissime anche mille euro a chi getta i rifiuti in giro questo è uno dei messaggi e l'altro dice però il problema è che se dai 200 euro di multa a me io mi suicido se lo dai al mio vicino manco se ne accorge perché il vicino è un po' più ricco evidentemente presumo probabilmente sì probabilmente sì e poi c'è veramente un fenomeno culturale perché uno dice sì allora io pago e faccio quel che voglio ma non è così non è più il tempo di io pago e faccio quel che voglio perché quello che tu vuoi danneggia anche me quindi è un'azione collettiva ecco a proposito delle azioni collettive oggi c'è è troppo forte questo fenomeno io pago e quindi il comune deve fare bisogna cosa posso fare io sarebbe bello ritornare anche a comportamenti che erano normali tanti anni fa una volta era normalissimo che ognuno di noi si puliva il marciapiede davanti a casa oggi se non viene il comune mi arrabbio mi pretendo non è verissimo a proposito di Ethernet ho visto una piccola azienda dice un messaggio e dile scaricare nel fosso vicino all'aeroporto Ethernet è vergognoso c'era quasi buio di solito lo fanno al buio doveva prendere la targa allora dottore ho un frigo da buttare cosa devo fare per farlo venire a prendere la casa perché lei sta dicendo che l'ho fatto io non ho i mezzi per portarlo via poi il frigo si sente solo e pesa però questo mi fa ricordare ecco lo volevo dire prima molte volte si abbandonano i rifiuti perché non so cosa farne ok ecco innanzitutto leggete veramente tutti i librettini informativi o la nostra app o il nostro sito che danno utilissime informazioni su dove smaltire correttamente un rifiuto ecco il frigorifero centro di raccolta per esempio però mi viene da dire non fatevi incantare oggi per legge non perché lo vuole il direttore della CBP ma per legge se uno compra un frigorifero nuovo il negoziante è tenuto a ritirare il frigorifero vecchio quindi a meno che questa signora o signore non ce l'avesse se ha comprato un pezzo nuovo chi l'ha ritirato doveva ritirare il pezzo vecchio per legge gratuitamente dottore io la soluzione l'avrei facendo lavorare chi getta i rifiuti 24 ore al giorno andando a raccogliere i rifiuti bellissimo era il discorso dei 1000 euro e dei 200 bellissimo abbandonare dei rifiuti male di sempre ma tra l'altro quello che ha detto il direttore è forse un velo di speranza vogliamo dirlo vogliamo darlo perché effettivamente c'è sempre stato l'abbandono dei rifiuti lei mi ha detto però che i ragazzi erano scandalizzati sta cambiando oggi c'è una tensione diversa spesso e volentieri la gente veramente fa fatica a fare quello scatto in più quindi di essere protagonista quindi quando dico segnalate la gente ancora io non voglio fare la spia ma veramente è un fenomeno pericoloso che va contenuto perché lo dicevo prima stiamo parlando di una piccola minoranza veramente di una piccola minoranza di scegliarati poi non è una delazione è la segnalazione di un reato e contrapposto a questo ci sono anche numerosi gruppi di volontari che tengono pulite le rive dei fossi degli argini dei fiumi quindi c'è comunque tutto un percorso culturale che si sta facendo adesso voglio vedere che sinonimo trovo qua allora occorre trovare sistemi differenti di coercizione quindi punizione tipo a mezzo stampa mettere il nome magari anche la foto questo qua ha buttato questa roba qua eh sì sì se ne sta parlando se ne sta parlando poi mettete i contenitori dell'olio di frittura ci sono in tutti i nostri comuni insisto leggete mi raccomando leggete tutte le informazioni ecco approfitto vi rubo due secondi fra come sempre fra due mesi ma forse magari ci sentiremo ancora nei microfoni prima della fine dell'anno anzi credo sicuramente però fra un po' distribuiremo come tutti gli anni eh l'ecocalendario con tutte le informazioni che servono per gestire bene eh i propri rifiuti non buttatelo via non buttatelo via noi ne troviamo centinaia nella raccolta della carta eh quindi eh almeno metto l'olio del tutto gratuitamente senza andare all'isola ecologica tutti i nostri comuni hanno i contenitori poi direttore lei ha ragione siamo un popolo maleducato però lei è un tecnico e dovrebbe avere la soluzione anche cattiva certo hai batti in panni guardi un bel batti in panni un bel batti in panni diremo anche questo ecco prima c'era la vice sindaca di piantare gli alberi fa bene stiamo facendo eh molte anche i sindaci dicono tante cose belle a noi quindi stiamo lavorando a quattro mani per cercare di eh migliorare il nostro territorio benissimo allora siamo in chiusura e ringraziamo tantissimo Francesco Arcaro direttore di CBBO io ringrazio a voi e arrivederci alla prossima grazie